L'antefatto è che questo ariete era stato donato da Hermes, che corrisponde al dio Mercurio dei Romani, a Nefele, madre di Frisso ed Elle e sposa del re greco Atamante. Atamante ripudiò Nefele e sposò Ino. Siccome Ino era gelosa dei figliastri e voleva ucciderli, Nefele chiese aiuto agli dèi. Allora Hermes inviò questo ariete alato, su cui Frisso ed Elle sarirono in groppa, diretti verso la colchide. Elle però durante il viaggio cadde in acqua e solo Frisso arrivò a salvo nella colchide, dove sacrificò l'animale a Zeus e donò il vello d'oro al re Ete, che lo tenne appeso ad una quercia in un bosco sacro, dove fu custodito da un drago che non dormiva mai, e qui rimase finché gli Argonauti, capeggiati da Giasone, figlio del re di Tessaglia, non riuscirono a impadronirsene. Gli Argonauti riuscirono nell'impresa grazie all'aiuto della maga Medea, figlia di Ete, che si era innamorata di Giasone e per amor suo fece addormentare il drago. Sul coperchio vi sono tre figure, che sono Dioniso giovane e atletico in mezzo a due satiri. Dioniso, chiamato anche Bacco, è il dio della forza produttiva della terra e in particolare è il dio del vino, e i satiri sono mitici esseri legati a questo dio, che sono considerati di solito personificazioni della fecondità, dei poteri e delle forze vitali della natura. Sono caratterizzati dalla predilezione per il vino e per i piaceri sensuali, e hanno un aspetto animalesco pur essendo descritti e rappresentati come esseri umani. Infatti hanno orecchie appuntite come cavalli e la coda di cavallo o di capra e sulla sommità della fronte hanno due piccoli corni. Un altro esempio di quest'arte medioitalica è il Bruto Capitolino di III secolo a.C., conservato presso i musei Capitolini. Si tratta di una testa bronzea, che oggi è collocata sopra un busto che non gli apparteneva in origine, come potete vedere dalla seconda foto. La testa, alta 69 cm, che è un esempio altissimo di ritrattistica italica dell'altoellenismo, probabilmente in origine apparteneva ad una strata equestre, data la leggera inclinazione verso il basso e a destra, tipica del cavaliere che avanza lentamente. Non si conosce il luogo della scoperta, ma era nota già nel XVI secolo, quando apparteneva alla collezione del cardinale Rodolfo Pio da Carpi. Ed è appunto nel Rinascimento che gli eruditi, colpiti dall'intensa e severa espressione del ritratto, vogliono identificarlo con Lucio Giugno Bruto, il personaggio che secondo la tradizione capeggiò la rivolta contro i Tarquini e divenne uno dei primi due consoli della Repubblica. Così questa testa è passata la storia come il Bruto Capitolino, anche perché alcune fonti scritte ci parlano di una statua di Bruto con la spada che era in Campidoglio. D'altronde, dal IV secolo a.C. una moltitudine di statue onorarie, soprattutto equestri e in bronzo, popolarono gli spazi pubblici della città per celebrare i personaggi importanti legati alla storia dell'urbe. Nonostante questo, in realtà non c'è alcuna prova che possa valorare l'ipotesi di identificazione. Lasciando perdere questo problema, la testa è comunque un ritratto di eccezionale livello artistico. Il volto è rude, ha una struttura volumetrica robusta, con gli zigominetti sotto la pelle, le labbra sottili e il naso aquilino. Gli occhi sono infossati ed evidenziati da inserti in avori e smalto. La barba è incolta e i capelli che ricadono un po' in disordine sulla fronte contribuiscono ad un effetto coloristico e ad accentuare la durezza dei tratti. L'espressione colpisce per la sua efficacia psicologica. Infatti questo personaggio mostra bene quella virtù, quel coraggio, quell'onore, quell'autodisciplina e determinazione che porta all'affermazione personale che sono tipiche della mentalità romana. Sono i valori difesi da Catone e dal patriziato conservatore contro la moda ellenizzante, troppo molla ed elegante, e che salta invece uno stile rude e severo che meglio incarna i suoi ideali. In conclusione quindi quest'opera fa parte dell'arte medioitalica, perché non è un'opera pienamente romana e c'è l'influsso dell'esperienza figurativa greca, però il suo significato ideologico è romano. Questa è la famosa testa bronzea, datata a III secolo a.C., proveniente da San Giovanni Lipioni, che è un paese della provincia di Chieti. Ora è conservata a Parigi, spero di pronunciare bene, nel cabinet des medailles della Bibliothèque Nationale de France. È alta 28 cm e si pensa che essa rappresenti un alto funzionario sannita, addirittura forse un eroe delle forche caudine. Dunque, come il Bruto, questo è un ritratto onorario, pubblico, e anche qui notiamo una particolare intensità di espressione. Ancora come per il Bruto c'è un forte senso della volumetria, ma rappresenta un modellato più morbido, con superfici del volto carnose e potenti strutture osse sottostanti. Questa testa dipende dalla ritrattistica ellenistica. È un'immagine vitale. Gli occhi sono infossati e sottolineati da folte sopracciglia asimmetriche e dalle lunghe ciglia ricurve. I capelli, divisi in ciocche regolari, sono aderenti al cranio. Con una tecnica impressionistica si è incisa la barba, realizzata a puntini, che creano l'effetto della barba non cresciuta. La bocca è serrata e il labbro superiore è leggermente sporgente di quello inferiore, e conferisce durezza al personaggio. Questa testa doveva appartenere ad una statua intera. Il cosiddetto giovinetto di Firenze, per il quale è stata proposta una datazione che va dall'ultimo terzo del IV secolo al III secolo a.C., è un po' diverso rispetto agli altri due ritratti, perché risulta mancante di tratti caratterizzanti, e invece presenta tratti fortemente idealizzati. Presenta capelli semplificati e occhi troppo grandi. L'elemento decorativo è portato quasi all'esasperazione. Si guardino le sopracciglia, che sembrano due cordoni. Questa testa, sempre in bronzo, è conservata al Museo archeologico nazionale di Firenze. Accanto alla produzione in bronzo, c'è la produzione di statue fittili, ovvero in terracotta. Questo è uno splendido busto di Demetra, proveniente da un deposito votivo di Ariccia. Faceva dunque parte, insieme ad altre due statue che vedremo subito dopo, di una serie di offerte alla divinità. Tutte e tre queste terrecotte sono conservate nel Museo nazionale a Roma. Demetra, o Cerere, come la chiamarono i romani, abbiamo già accennato prima che era la dea della terra e dell'agricoltura, sorella e sposa di Zeus. Il suo nome significa Terra Madre. In questo caso è stata rappresentata con una grande fascia sui capelli, costituiti da ricci mossi, e ha occhi grandi, labbra carnose, vistosi gioielli, orecchine con lana. E queste sono le altre due statue che dicevo prima, provenienti dallo stesso deposito votivo. Sempre in terracotta rappresentano una core Persefone, la proserpina dei romani, e l'altra sempre Demetra. Persefone è la figlia che Demetra ha avuto da Zeus, ma il padre cambia a seconda delle diverse versioni del mito. In Omero è descritta come la sposa di Ade, cioè Plutone, il dio dei morti, che risiedeva nell'oltretomba, per cui è la regina delle ombre, che governa sulle anime dei morti. Gli scrittori tardi la chiamavano Giunone Infernale. Il nome core, con cui era chiamata in attica, significa ragazza o figlia, ed era quindi spesso usato insieme al nome madre, con il quale si indicava Demetra. Entrambe queste statue presentano labbra carnose e un'elaborata acconciatura con la riga in mezzo, e il panneggio delle vesti è trattato con attenzione, infatti ricade morbidamente in pieghe. In conclusione possiamo dire che quest'arte medioitalica è caratterizzata da un gusto per i volumi pieni e per i dettagli, come le capigliature, le barbe e gli ornamenti.